Ripescateci perché vi faremo divertire ancora e anche perché stasera abbiamo perso contro uno dei concorrenti più forti di questo... Stasera era tosta, stasera era molto tosta, sono arrivati i secondi, se ci volete rivedere su questo parco... Sampa il tempo! Grazie! Se vuoi ripescare questo talento, clicca ora mi piace al post originale del video oppure condividilo.